ciao a tutti mi chiamo alfonso io sono titolare dell'agenzia safari vera africa che si trova a watam di fronte al cancello principale del garota di suoti oggi sono al centrim centrim una bellissima campo che si trova al zavo est questo si chiama centrim tagli si trova all'interno del parco zavo est è un bellissimo posto veramente venite tutti a vedere questo qua è un campionato che ha bellissime tende su questo video vi ho fatto vedere le porto e poi davanti qua sul fermatoio sto andando per l'elefante che sta buendo l'acqua ecco vedete anche voi è una bellissima posto davvero è un assogno tutto qui di porto tutti questi sono tende sono fatti veramente un bellissima zona poi questa è una zona panoramico specializzato per vedere l'elefante prima c'erano anche i bufali ci sono anche le elemali che stanno arrivando questo è un elefante